Eccoci e bentornati sul mio canale. Che è? Fa freddo Gerard e bentornati sul mio canale. Allora vediamo un po' che cacchio è ora. Cacchio è ora. Dovevo trovare il prossimo passo. Dovevo trovare il prossimo passo. Se posso trovare il prossimo passo, dovrei fare il prossimo passo. C'è qualcosa per recuperare qualche energia. Vediamo un po'. Cotone. Ci fanno una mazza qua. Piala. Qua. Minerale. Vediamo un po' se fanno qualche cosa sti cosi. Se ci permettono di recuperare qualche energia. Un guento antidragone. Antidoto per muffe. Campione di vizimo e cibi e bevande. Cibi e bevande. Ci facciamo un'emerita ceppa. Ok. Allora. Abbiamo trovato un tanto già un piccolo passaggio dove proteggerci. Ma qua proprio il freddo c'è se porta via ragazzi. C'è se qualche qua. Ha bucchi di piaggiatore. Cinque di cuoio. C'è sta una mazza. Frampetti lunari. Vabbè. Andiamo giù. Continuiamo a scendere. Molte voglio. Che c'è sta ancora qua la... Niente da mangiare comunque. Spago. Guarda che sfiga ho. Guarda che fai. Guarda che sfiga ho. Che c'è questa. Devo andare dietro a te Siamo bene ma io morirò raga Non so voi ma io penso di morire da un momento in altro Ma non ci basteranno mai le energie Per questo cacchio di freddo Poi ho gonciato E scende da qua Guardiamo scendo e mi ammazzo Ecco E ti pareva che la cretinata non la faceva Cacchio Si bene Appena mi toccano S'ho fregato Lo sapevo Ma che cacchio Appena mi hanno toccato Come cacchio Potemmo fare a bevita quel cacchio di freddo Sto a pensare ma forse la birra C'è scalda Sto a pensare se eventualmente Mi bevo la birra Prima di andare Normalmente l'alcol è scalda Ma mi è venuta a mente sta cretinata Perché stavo a pensare L'unica cosa che c'avevo Nell'inventario Ma se riesco a superare il primo pezzo Ah tutto tocca a riparselo Forcaccia la miseria Che cacchio Vai vai Corri 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 Se posso solo trovare il cover Non è andata malissimo Non è andata malissimo Andiamo giù Converrebbe salvare Se si può salvare Che almeno Non ci dobbiamo rifare sempre Gli stessi pezzi Che dite raga Almeno ripartiamo Dai punti buoni Ok Questi risaltiamo Vai dentro Vai dentro Ma tu cacchio vai Vai dentro Non è andata malissimo Come cacchio fanno Vabbè Non sono compatibili E mo li sovrascriviamo Non ti preoccupa Allora Andiamo Qua Doviamo andare Passate qua Su Su Non vedo niente Dai Vedi c'è te passate qua Corri Allo sbaraglio così Vai 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 Naccia la tua miseria Ma non ce la faremo mai ragazzi Non ce la faremo mai Eh vabbè Ma non ce la famo Regà Ma non ce la famo Che cacchio di strada 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 Porco cane Che tosta sta mission Che tosta sta mission Geralt had to face Erodin But could only hope To beat him With the help of friends The wild hunt Could be defeated With exceptionally Powerful magic So Triss and Jens Set out to reconvene The lodge of sorceresses Avalach Too began to lay Plans of his own Ci serviva regà Che lo scudo Durava più tempo Sinceramente Mo' a pensarci bene Solo che non lo possiamo Manco più potenziare Perché non ci abbiamo punti A savello prima Che ci poteva servire Per sta missione Comunque Volevo vedere Se eventualmente Le birre Ci possono aiutare Che ne so Ok Ci scaldano un po' Vai 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 corri 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 Entra qua entra qua Ok 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 Da qua non si può passare Bisogna a forza scendere Ma se scendo Mi faccio male Il problema è quello Il problema è quello Quindi se io Passo qui sopra Ed eventualmente scendo Ci facciamo male uguale Aspetta Se eventualmente scendo da qua E un po' Ok Buono Buono Vedete Forza Ok Via Forza Vieni Forza Forza Le spalle Dai 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 vai vai Perfetto E' andato Che mi dai Che mi dai di buono Che c'è qualcosa I soldini Ci faccio una merita Ceppa Qua sono tutti questi scheletri Che ci fanno una ceppa Qua che abbiamo Sangue di mostro Occhio di mostro Perfetto Perfetto Poi Vediamo un po' se Nelle botti O nelle scatole C'è Ferna in polvere Non cefamo niente Campione di vizima Che ci permette Di recuperare forse Nulla Anzi solo D'arcolizzaccio Secondo me Aspettiamo l'effetto Mamma mia Che sudata Che sta mission Sono più difficili Queste qua Che Quelle che Che abbiamo I mostri Da sconfigge Sto a vedere Se eventualmente Nell'inventario Ci abbiamo Qualcosina di utile Sangue di mostro Usalo per chiare Equipaggiamenti Nell'alchimia Eventualmente Vediamo se c'è qualcosa Contro il freddo Che ne so Mitraglia Attanaglia Questo che riceve Il danno Tutto il freddo Che posso usare Molta di più Filtro Aiuta Intensità Di segni Permette di vedere La totalità L'oscurità Riduce a zero La justicità Annula gli effetti Delle altre pozioni A zero La rigenerazione Della vitalità Quindi questo Non sarebbe stato male E Tuono Aumenta la potenza D'attacco L'unica cosa Che possiamo fare E con tutti Poi tutta la roba Che ci abbiamo Perché manca di Ci abbiamo due cosettine Allora Facciamo un altro Salvataggio Almeno stiamo già qua E dobbiamo trovare Un altro punto Dove passare Ragazzi Siamo pronti Aspettiamo L'effetto E ripartiamo Aspettiamo Aspettiamo Ragazzi Sennò ci vediamo Direttamente al prossimo Portale Oh quacchio Come si lancio Oh niente Oh niente Qua ci posso andare Qua cosa c'è Dietra runica Qua niente Questo mi attacca Subito il freddo Qua chiuso Niente Posso fare niente Qua Proprio chiuso Va bene Andiamo Corri 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 Vai 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 Qua giù Qua giù Su 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 Vai 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 Qua giù Qua giù Qua giù Ricate Ricate Corri 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 Qua avete una porta Qua avete una porta Entra Mamma mia bella Mamma mia Che sudata Qualcosa c'è Qua c'è la robetta Frammenti lunari Aspetta Pilo Ma porco cane Ma qualcosa di buono Per scaldarci Manco Seda Laccio Niente Qua è chiuso Quindi manco era giusto Qua Mannaggia Avevo trovato un punto Fammi un altro salvataggio Raga Salvarmo sul primo Ok Allora Andiamo giù Andiamo giù ragazzi E ritentiamo Da che parte Dovremmo andiamo? Cacchio Va a tirare il vento Come non mai Vai 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 Cacchio Su Su Corri 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 Vai 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 Corri 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 Qua si può entrare Qua si può entrare Zitti Qua si può entrare Un altro posticino Abbiamo trovato Non male Non male Non male Non male Ok Un altro salvataggio Scusatemi Rega ma Questa la dobbiamo Assolutamente passare Perché la sto odiando Sto pezzo di Di missione Ok No 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 Cacchio Vai De qua De qua Oh eccolo La posso andar Ce la ce posso andar Fica te Bello No 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 Manca pochissimo No Non ce la faccio Per poco Per poco Regà Ero arrivato al portale 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 Geralt Had to face Ero But could only hope To beat him With the help of friends The wild hunt Could be defeated With exceptionally powerful magic So Triss and Yen Set out to reconvene The lodge of sorceresses Avalach Too began to lay Plans of his own Quanto c'è mancato Regà Niente Niente Emo ci conviene Recuperare qualche energia Là dentro Che così almeno Ce la facciamo Arrivato al portale Va Daie Daie Che ce la dobbiamo fare Dai che ce la facciamo Porco cane Mamma mia Dai 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 Porco cane Che sfigata Che sfigata Ma quanto mi è mancato Niente Qua cosa c'è Diario di Ebril Allora Dato che Dobbiamo recuperare O meglio aspettare Che dite se Quanto ci mette Per recuperare qua Perché non si può utilizzare La meditazione Porco cane Questo me fa un cacchia E Ci proviamo Va Vai Proviamoci un'altra volta Andiamo Andiamo Su 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 Qua De qua De qua De qua Su 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 Corre 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 Sbrigate 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 Corre 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 Uuuuh È andata È andata Pero un pelo Tutti un po' di tempo? Hai avuto il problema? Non, solo prendere in le sceglie. Cosa è questo? Mi sembrava che sia stato qui prima. Tu hai. Tu avuto la progettazione di Ereddin qui. Prima che Ciri avuto qui. Per te. Cosa ti parla? Cosa ti parla? Cosa ti parla? Cosa ti parla? Ciri. Cosa ti parla? Si sensata che era in danger, tol te fuori da l'anima, poi trocati te fuori da l'anima. Invece ha mai stato l'anima? Cosa ti parla? 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 Cosa ti è cambiata? Grazie a tutti. Non commettere la stessa errore. Vuoi chiarificare? Non qui. Non ora. Non sembra sicuro qui. Andiamo. Questa. La prossima passaggio. Quando si apre? Probabilmente. No. Ma porco cane. No, regà. Questa è una morte epica. Questa è una morte epica, regà. No, ma pensate se adesso non ci fa ripartita qua e ci fa ripartita sopra dove praticamente devo rifarmi sto pezzettino che per un pelettino sei riuscito ad entrare dentro. Ma porco cane, ma mi ha fatto rinasce sopra il fuoco mi ha fatto rinasce. Sopra il fuoco mi ha fatto rinasce. Ma poi dici la sfortuna. Questa è proprio la missione più sfigata che ho da quando sto giocando a The Witcher. La prossima passaggio. Quando si apre? Sicuramente. Noi siamo fregati. Stiamo da qui. Questa. Questa, Nalia? Il Palazzo dell'Awakening. Formalmente il Palazzo del Moon. Gell's Headquarters. Va, va tu davanti, va. Ok, sinceramente. E noi mi invito tantissimo. Arriva al quartier generale di questo. Tutti i nomi stranissimi. Mh. Bellissimo. Siamo felice di sapere che lo apprezzate. L'architettura elvenica è un po' più sofisticata. Il Capone. Il Capone. Il Capone. Il Capone. Il Capone. O! Chi è questo? E perché sono qui? Grazie. Crivan? La sua stagione, magari. Niente più. Ahaha. Vedo che ho avuto un po' più caldo. Quindi andiamo a cambiare il tema, shall we? Cosa for un drinko? Hai un vodka? Oh, sì. L'esprevo che non ti mangiare questo filth, che grazie come è. Mmm. Hmm. I must admit, you appearing here, quite a surprise, Witcher. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalach is honest with you? Just curious. I think that even among the NL elves, there are those capable of being decent. Naivete is a fool's blessing. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our kin. You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've been an Uromancer. My intuition was correct. This will be interesting. Tired of your pseudo-sophisticated courtesy. Let's go. Where to, if I might ask? To the world of the N. Shea. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Let's go, let's go, let's go. 나에게, say, trod fourteen. Pensavo rogne, ragazzi. Invece no, è venuto diretto. Meglio così, va. Così almeno ce lo piamo come alleato. E poi andiamo a aiutare Jennifer. E voi mi direte sempre Yennifer, ma a me piace più Jennifer e poi dobbiamo aiutare anche Ciri a Novigrad Ciri ha un affare personale da risolvere e Yennifer invece a quanto pare è sulle tracce dell'altra strega Mamma mia che bello, un nuovo alleato, un nuovo alleato, queste cose mi piacciono, queste cose mi piacciono Eredin, porco cane, le sfonamo come che, dopo averte ammazzato il primo dei tuoi comandanti Ci avrai proprio le spalle scoperte fra un po' Allora, ritorniamo nel nostro mondo, questa volta finalmente viaggio diretto, eh? Sicuramente perché Stealth è molto più forte di Avalak, secondo me Però tranquillo stava, eh, non è che ha fatto qualche battutina un po' così, un po' sarcastica sulle nostre risposte di Gerard Però per il resto non è che ha opposto resistenza, l'ho visto abbastanza partecipare Noi vediamo un attimo nella conversazione che dice Sono molto curioso Ci sta a mettere un pochettino, un po' troppo rispetto ai classici caricamenti, eh? Tipo pure quando dovevamo cambiare città, ci metteva anche di meno Non lo so perché ci sta a mettere un po' di più sinceramente rispetto alle altre volte Vediamo un attimo, se no, che ne so, ci possiamo salutare ragazzi e riprendiamo direttamente nel prossimo video Vediamo un attimo com'è Vorrei che sia, no, sta andando avanti, ok Com'era Gels questo si chiama? Qualcosa del genere Credo che non mi bisogna introdurre il nostro guest Buongiorno, Siriel. Quindi è vero, la scuola ha scambiato la fox. Non c'è nulla che puoi fare per farciare a noi un'altra. Avallach blackmaili te, non ti ricordi? Tried a forciare a farciare il nostro canale, trattato il corpo come un pollo di carne? Mi ricordi, ma mi ricordi anche quello che ti consigliere Eridin a fare con me una volta che ero in giro. E mi ricordi quello che i Red Riders hanno fatto a Kaer Morhen. Non ho venuto qui per argomentare. La proof che ti promisci, dove è? Ti vedrai, nel tuo sogno. Ah, sì. Sei vicino, Manso. Vigioni che non possono essere fabbricate. Vuoi mostrare come Eridin ha scambiato il nostro canale? Che poi? Sì, mi ricordo di incontrare l'Enel contro Eridin? Sì, mi ricordo di una rivoluzione e di proclare di Avallach, il nostro nuovo canale? Ragazzi, su questa domanda molto importante, ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video di The Witcher 3. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video. Ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale. Grazie. Grazie.